Buongiorno dalla redazione di UD News TV. In apertura un'operazione contro la pedopornografia online portata a termine dal compartimento polizia postale delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia a seguito di una complessa attività di indagine coordinata dalla procura distrettuale di Trieste e culminata nei giorni scorsi con l'esecuzione di 37 decreti di perquisizione a carico di altrettanti soggetti residenti in varie regioni d'Italia. Il bilancio dell'operazione denominata in codice Little Players è di un arresto, 33 persone indagate, 82 dispositivi elettronici e migliaia di file contenenti materiale pedopornografico sequestrati. L'attività ha avuto avvio nell'aprile dello scorso anno quando nel corso dell'attività di monitoraggio della rete internet gli operatori della sezione polizia postale delle comunicazioni di Udine hanno rintracciato sulla piattaforma Instagram un profilo dal quale venivano pubblicizzate piattaforme social e di messaggistica istantanea attraverso le quali si sarebbero potuti visualizzare e scambiare contenuti di natura pedopornografica. E' quindi iniziata un'attività sotto copertura attraverso la quale gli operatori della polizia postale hanno tenuto di essere accreditati nella ristretta cerchia di amicizie. Attraverso questa procedura è stato possibile individuare una stretta correlazione fra tanti account pedopornografici le cui analisi hanno consentito di ricostruire le modalità criminose in atto. Nel corso dell'attività come detto sono stati sequestrati 47 smartphone, 4 tablet, 2 computer portatili, 27 hard disk e 2 playstation contenenti migliaia di video e immagini di abuso nei confronti di minori. Un'operazione che come detto ha interessato tutta Italia che ha preso le mosse proprio dall'attività della polizia postale di Udine. E come vi abbiamo raccontato nelle scorse edizioni del nostro Tg c'è un'altra operazione che ha interessato tutto il territorio nazionale e che ha preso le mosse proprio da un'indagine partita dal Friuli Venezia Giulia, un'indagine della guardia di finanza di Pordenone e anche della polizia postale di Udine che ha portato alla luce una truffa per la vendita di auto di lusso online. Oltre 800 le persone truffate, 17 quelle indagate per associazione a delinquere, evasione fiscale, truffa, falso, materiale e ideologico. I ricavi non contabilizzati da questo gruppo criminale superano i 30 milioni di euro. Tutti i particolari di questa indagine, di questa inchiesta sono stati raccontati questa mattina nella sede della guardia di finanza di Udine, del comando provinciale delle fiamme gialle udinesi. A seguire per noi la conferenza stampa Luciana Idelfonso che ha intervistato il comandante della guardia di finanza di Pordenone, il colonnello Stefano Commentucci, anche la comandante della polstrada di Udine, la dottoressa Rita Palladino. Allora sentiamo qualcosa in più, qualche particolare in più su questa inchiesta. I numeri sono connessi a un'evasione fiscale di ricavi in Udicarati che supera i 30 milioni, un numero di persone truffate elevato che supera 800 unità e soprattutto una serie di irregolarità connesse all'immatricolazione e allo status delle autovetture, connesse alla mancata rispetto degli obblighi per il rilascio dei libretti e soprattutto ai chilometri erroneamente contabilizzati in maniera fraudolenta. Parliamo di acquisti fatti in Germania. Voi siete riusciti a dare il via all'indagine grazie a un controllo amministrativo che poi ha portato a Codroipo quello che è stato probabilmente la prima truffa a livello nazionale. Sì, noi come Polizia Stradale su input ministeriale effettuiamo controlli di routine agli esercizi commerciali che gestiscono auto, officine, autorivendite nuove usate. Ma il bello di questa attività è che proprio dal controllo e dalle regolarità emerse si è sviluppato un'intensa attività unitamente alla Guardia di Finanza fatta di attività tecnica insistente per questi appostamenti, intercettazioni, pedinamenti che hanno poi permesso di individuare la struttura del sodalizio e il modus operandi. Colonnello, parliamo di auto di lusso, moltissimi cittadini come dicevamo truffati che venivano anche presi un po' in giro sul chilometraggio delle auto oltre sul mancato versamento dell'IVA. Sì, in buona sostanza la procedura di vendita era veicolata tramite siti internet specializzati che sono estrani comunque ai reati contestati. La caratteristica qual era? Era che queste autovetture venivano, tra virgolette, schilometrate, quindi veniva in maniera artificiosa aumentato il loro valore commerciale. Non veniva versata l'IVA che è il 22%, il risultato è che questi prodotti, queste autovetture offerte erano un prezzo straordinariamente competitivo e altrettanto attraente per gli acquirenti che venivano da tutta Italia poi per acquistarle. A differenza di quanto accade in molte truffe online, queste macchine esistevano veramente, erano semplicemente diciamo così prese dalla Germania, fotografate da siti tedeschi per poi essere rivendute ma spesso non avveniva neanche la vendita, tanti infatti sono i truffati che non hanno mai ricevuto l'auto. Certo, molti sono truffati che non hanno ricevuto l'auto. L'auto esisteva, veniva individuata da soldalizio all'estero su siti specializzati, veniva poi praticamente venduta in Italia prima ancora che arrivasse materialmente in Italia. In Italia veniva consegnata dopo naturalmente averla resa più carina attraverso l'operazione di restyling che riguardava naturalmente lo schilometraggio. E andiamo a sentire anche le parole del procuratore Antonio De Nicolo che ha coordinato proprio questa inchiesta. Un bel lavoro congiunto di cui mi sono compiaciuto perché si dimostra anche in questa vicenda come in altre che seguiamo come procura di Udine che la sinergia porta i suoi frutti e qui li ha portati. Quante le persone coinvolte? Gli indagati in questo momento sono 18, 5 sono stati raggiunti da misure cautelari e gli altri sono in stato di libertà. Ne valuteremo posizione per posizione la più importanza rispetto alle vicende che stiamo trattando. Una vicenda che parte da Fiorevenza Giulia ma che coinvolge tutta Italia? Una vicenda che coinvolge tutte le regioni d'Italia tranne Val d'Aosta e Molise. Lei ha suggerito alle persone che sono rimaste coinvolte di costituirsi parte civile? Sì, perché è l'unico modo per poter confidare in un risarcimento relativamente rapido grazie ai sequestri che stiamo in queste ore eseguendo. Solidarietà con le persone truffate deve essere anche estesa a chi truffa e va delle tasse? Dico solidarietà ai truffati è doverosa, però quando facevo i primi passi come magistrato mi sentivo dire dei colleghi più anziani che per fare la truffa bisogna essere in due. Nel senso che anche il truffato ci mette un po' del suo. Il truffato deve stare attento, non può voler fare l'affare della vita pagando la metà di quello che costerebbe normalmente il bene che sta cercando sul mercato. Deve capire che sta rischiando tantissimo. E nelle ultime ore è da segnalare anche un'operazione della Guardia di Finanza di Gorizia che ha sequestrato 14 quintali di sigarette di contrabbando trovati nascosti in un furgone, una merce del valore di 250 mila euro. Sono stati denunciati i due autisti. Il rinvenimento delle sigarette è avvenuto durante un controllo nei pressi del valico di confine di Sant'Andrea. Due persone originarie della Romania e domiciliate in provincia di Milano e di Campobasso sono state appunto denunciate per contrabbando doganale. La merce si trovava dentro un furgone proveniente dall'Ungheria che trasportava casse di legno sigillate che avrebbero dovuto contenere in base alla documentazione di trasporto filtri per compressori. Secondo la ricostruzione i tabacchi non vendibili in Italia e nell'Unione Europea in quanto non conformi ai parametri minimi di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria erano destinati a un'azienda di trasporto con sede in provincia di Caserta. E ancora per la cronaca picchiava la nipote che stufa di essere percossa è scappata e si è rivolta ai carabinieri per denunciare quanto stava accadendo. I militari della stazione di Tricesimo e quelli di Tarcento hanno arrestato un uomo residente a Cassacco. Su di lui pende l'accusa di maltrattamento di persona. Si tratta di un 46enne già noto alle forze dell'ordine che dallo scorso mese di dicembre si scagliava in modo violento contro la nipote, una ragazzina del 2002. L'uomo, pregiudicato e agli arresti domiciliari per una rapina messa a segno in precedenza, è stato arrestato e condotto in via Spalato. Le indagini sono scattate grazie alla giovane che è scappata dall'abitazione e ha confidato quanto stava accadendo ai militari dell'arma. Dopo un'attenta attività investigativa, i carabinieri della compagnia di Udine hanno arrestato lo zio. E sempre per la cronaca incendio nella notte in comune di Pavia di Udine, nella frazione di Percoto, in un'officina meccanica e rimessaggio, la Karen Van a fuoco, alcuni mezzi che si trovavano nel piazzale esterno dell'officina. Si tratta di tre camper sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine che hanno arginato il ruogo, hanno spento le fiamme che minacciavano anche le abitazioni vicine. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, mentre vediamo le immagini dei vigili del fuoco al lavoro sul luogo dell'incendio, incendio che è divampato attorno alla mezzanotte. E sempre per la cronaca da segnalare anche il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio a carico della discoteca Enjoy Disco Club, oggetto nei giorni scorsi di una serie di controlli da parte dei carabinieri, dei carabinieri che hanno riscontrato alcune irregolarità dall'impiego di mano d'opera non regolare, alla somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, all'installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato e poi alla presenza di un numero di persone superiore a quello consentito dalle leggi. Durante le verifiche sono state sequestrate anche delle modiche quantità di sostanza stupefacente, come abbiamo visto prima nelle indagini. Dunque i carabinieri del comando provinciale di Udine hanno notificato ai proprietari il provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni, per violazione della capienza massima di persone consentite. E adesso cambiamo argomento e andiamo a collegarci con la nostra Luciana Idelfonso che si trova a Palazzo Palladio, una delle sedi dell'Università di Udine, dove è appena stato presentato un nuovo corso di laurea, un corso per la formazione scientifica e culturale gastronomica. Luciana, a te la linea. Sì, eccoci Angela, si parla del corso Think Food, Scienza e Cultura del Cibo, una laurea trienale che partirà dal prossimo ottobre. Ne parliamo insieme all'assessore regionale Bini, perché al centro di questo corso di studi è anche l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, una delle punte di diamante della nostra terra. Beh sì, innanzitutto voglio davvero complimentarmi con l'Università degli Studi di Udine e con il magnifico rettore, perché ha dimostrato per l'ennesima volta di essere assolutamente vicina alle imprese, ai lavoratori e agli studenti del Friuli Venezia Giulia. L'offerta che l'Università degli Studi di Udine sta offrendo è già un'offerta importante per quanto riguarda l'enogastronomia, un settore che è cresciuto moltissimo in questi anni, ma soprattutto ha la possibilità di crescere ancora in maniera significativa. tecnologie dell'alimentazione, viticultura, enologia, insomma già le offerte formative presenti. Adesso ci aggiungiamo questa nuova offerta, la scienza e la cultura del cibo, non dico un'unica in Italia, ma la seconda mi pare in Italia, come corso di laurea triennale. Insomma quindi una dimostrazione concreta di essere vicini alle esigenze di nuovi professionisti e di conseguenza delle imprese del territorio. E allora ringraziamo l'assessore Bini che facciamo andare pure in sala, che deve intervenire adesso proprio alla presentazione della laurea, mentre noi proprio poco prima dell'inizio della cerimonia abbiamo intervistato il redettore Detoni. Sentiamo che cosa ci ha detto. Redettore, un nuovo corso di laurea dedicato anche a una parte importante del Friuli Venezia Giulia, come quella del cibo. Per noi è un motivo di grande orgoglio oggi presentare qui, presso il nuovo palazzo Antonini Maseri, unico palladio in regione, presentare questo corso di laurea in scienza e cultura del cibo, che vorrei ricordare è il secondo in Italia, dopo quello lanciato dalla Federico II a Napoli, in scienze e nell'astronomica del Mediterraneo. Noi invece qui, essendo a nord, facciamo un'operazione che possa essere in Italia europea. È un grande impegno per noi. L'abbiamo voluto fare il 21 marzo, giorno di primavera. Abbiamo anche un bellissimo logo che è Think Food, pensa al cibo. E quindi noi speriamo che sia una laurea che possa servire a tutti quelli che fanno marketing nelle aziende agroalimentari, tutti quelli che lavorano nella comunicazione, sul cibo, nella presentazione proprio dell'Italia come un paese che fa della cultura, la sua infrastruttura e dell'agroastronomia un grande momento di accompagnamento in questa cultura. Per il taglio del nastro, anche tre testimonial d'eccellenza che rappresentano il Friuli Venezia Giulia nel mondo, come Scarello, ma anche la Club Man e non solo. Sì, abbiamo voluto portare tre persone di livello nazionale perché noi vogliamo proiettarsi a livello nazionale e colgo anche l'occasione per ringraziare Villa Russiz, la fondazione, perché ci dà il vino con cui oggi bagneremo questa iniziativa. Vediamo la pagina degli spettacoli adesso. In scena fino a questa sera al Teatro Nuovo Giovanni Daudine lo spettacolo Il Costruttore Solnes che ha tra i protagonisti uno dei maestri del Teatro Italiano, Umberto Orsini. Ieri pomeriggio, assieme alla compagnia del Costruttore Solnes di cui fa parte anche Lucia Lavia, ha incontrato il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni Daudine. Noi ne abbiamo approfittato per una breve intervista e Ursini ci ha spiegato anche le difficoltà della messa in scena di questo spettacolo. Andiamo a sentire allora l'intervista che abbiamo realizzato. La difficoltà di tenere il pubblico su una vicenda di carattere molto intimo, cioè la crisi di un uomo che ormai diventando anziano ha paura della gioventù. La gioventù gli si presenta nell'arrivo di una ragazza che pretende che lui l'abbia abbiaciata alcuni anni prima, lui ormai è già anziano. E questa presenza è forse la realtà o forse un sogno? Questa persona è il suo desiderio di incontro e scontro con la gioventù o è qualcos'altro? Lo spettacolo in realtà gioca su questa ambiguità che è di Ipsen ma è anche molto dello spettacolo di Serra e mio per non dare delle risposte ma dare delle suggestioni che sono come la poesia molto più larghe della verità. La verità è quella che è. La poesia o le suggestioni che la poesia può suscitare sono più ampie e questo fa parte del respiro dello spettacolo che è inafferrabile in qualche modo ed è per questo che è suggestivo a mio parere. Questa sera dunque l'ultima replica a Udine. E adesso andiamo allo stadio, andiamo alla Dacia Arena. È pronto per noi Jacopo Romeo. E allora Jacopo a te subito la linea. Ciao Angela, rieccoci. Ci siamo spostati dalla sala stampa al campo della Dacia Arena anche perché fervono i preparativi per la gara della nazionale nazionale che domani pomeriggio sarà qui a Udine classica conferenza stampa pre-gara di mister Mancini insomma noi seguiremo ovviamente anche tutto quello che sarà l'arrivo della nazionale italiana. Per oggi qui in casa nostra, in casa unese è stato il giorno di Igor Tudor che ieri era arrivato, abbiamo fatto vedere anche le immagini nel suo primo allenamento e abbiamo raccontato tutta la giornata dalle zone Rodinicola sino al suo nuovo insediamento sulla panchina bianconera quest'oggi sono arrivate le sue prime parole ufficiali. Questa mattina alle 10 conferenza stampa di presentazione molto lunga, durata praticamente un'ora era accompagnato mister Tudor dal direttore generale Franco Collavino dal responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè ed è stata una conferenza lunga perché è stata di fatti trasversale sono state trattate tutte le tematiche che afferiscono all'udinese in questo momento è stato sottolineato come da parte di entrambi i direttori questo, serva la massima compattezza in questo momento è la scelta di procedere al cambio in panchina chiamando l'allenatore dal grosso impatto non soltanto caratteriale ovviamente perché poi è un valido anche tecnico Igor Tudor ma soprattutto l'allenatore capace di trasmettere quella grinta, quella consapevolezza necessaria per sterzare e tirarsi in acqua di classifica più tranquille serve la compattezza però massima di tutto l'ambiente di tutte le componenti questa è stata una tematica che è stata sposata in pieno sia da Tudor quanto da Collavino quanto da Pradè questo deve essere l'obiettivo dell'udinese da qui a fine stagione perché solo attraverso questo viatico si potranno giocare e approcciare al meglio le 11 finali che mancano alla fine del campionato per il resto è un Tudor molto determinato come ce lo ricordavamo già nella passata stagione che però ha dispensato delle prime indicazioni innanzitutto ha detto che non si può fare un paragonio rispetto alla sua chiamata dello scorso anno quando mancavano solo 4 gare alle fine del campionato e quando lui si era trovato a dover intervenire per interrompere una striscia enorme di sconfitte le 11 che erano maturate con Massimo Oddo in panchina e poi solo 4 partite per mettere i fini in cascina e mettere in ghiaccio la salvezza qui è diverso perché con 11 gare si parla praticamente quasi di un girone e dunque bisognerà fare un percorso un percorso che avrà anche diversi ostacoli il primo la sosta pre nazionali è un grosso problema ha detto Tudor perché io entro al rivo trovo una squadra con 8 giocatori con 10 che sono in giro per il mondo e rientreranno soltanto al giovedì pomeriggio alcuni e sabato 30 si gioca alle 15 qui alla Cerenna contro il Genoa quindi questo sarà il primo ostacolo è chiaro che non deve essere un deterrente non deve essere una scusante però oggettivamente può rappresentare un problema oggi la squadra è salenata doppia seduta in palestra al mattino alle 15 uscirà sul campo noi ovviamente la seguiremo e posso anche pronunciare che nella nostra diretta consacrata al calcio all'Udinese ovviamente in giornate come questa e anche ovviamente però anche la nazionale che giocherà qui sabato sera vi proporremo anche quella che è l'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni one to one da Mr. Igor Tudor dove ha ripercorso un po' tutte le tappe i temi salienti della conferenza e soprattutto si è soffermato anche su ciò che a suo modo di vedere servirà alla sua Udinese per tirarsi fuori dalle difficoltà Grazie allora Jacopo Romeo anche per queste anticipazioni adesso noi apriamo la pagina degli aggiornamenti di cronaca dall'Italia e dal mondo ecco il servizio i giudici dell'AIA in appello hanno condannato definitivamente all'ergastolo Radovan Karadzic 73 anni ex leader politico dei serbo bosniaci confermando le accuse di genocidio crimini di guerra e contro l'umanità per le quali in primo grado tre anni fa gli erano stati combinati 40 anni di reclusione i giudici del meccanismo residuale internazionale per i tribunali criminali l'organismo che ha sostituito il tribunale penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia uscito di scena alla fine del 2017 d'accordo con la procura hanno ritenuto inadeguata la pena inflitta in prima istanza alla luce dell'estrema gravità dei crimini e delle atrocità commesse da Karadzic nel corso della guerra di Bosnia del 1992-95 un conflitto fratricida che nel cuore dell'Europa provocò almeno 100.000 morti e oltre 2 milioni di profughi in Nuova Zelanda dopo l'attacco alle moschee è vietata la vendita di armi d'assalto e con caricatore esteso e di fucili semi-automatici di tipo militare come quelli usati nel massacro l'arma del killer era detenuta legalmente e lui ne aveva aumentato la capacità con un caricatore comprato online IPPE sceglie la mediazione nei confronti di Victor Orban nessuna cacciata dal partito ma solo una sospensione con la creazione di un comitato di tre probiviri che controllerà la condotta di Fides sotto la guida dell'ex presidente del consiglio Ue Herman Van Rompuy una mossa concordata che ha messo d'accordo i vertici del centrodestra europeo e lo stesso leader ungherese una mediazione che viene vista però come una vittoria dell'autoritario premier Magiaro che è riuscito a fare clissare la richiesta iniziale di una sua espulsione per il mancato rispetto dello stato di diritto per la campagna anti-europea condotta da Budapest e per le posizioni assunte sull'università guidata dal tycoon Soros è stata una discussione difficile ma c'era la necessità di farlo e lo abbiamo fatto in modo democratico e trasparente ha detto il leader dei popolari Maffred Weber subito dopo il voto sulla mozione approvata con una maggioranza schiacciante di 190 sì e soli tre contrari l'accordo raggiunto rappresenta la migliore soluzione possibile ha sottolineato anche Silvio Berlusconi amico di Orbán e da sempre contrario all'espulsione di diverso avviso invece Salvini la sospensione di Orbán dal PPE è assurda gli ho rinnovato la mia stima e la mia amicizia per lui e per gli ungheresi ha detto il leader della Lega e prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo un anticiclone contenente aria mite interesserà l'area alpina fino a tutto il fine settimana anche nel pomeriggio di oggi avremo cielo in prevalenza sereno con qualche temporaneo annuvolamento sul Tarvisiano mora in attenuazione nel pomeriggio e temperature massime in aumento con zero termico che in giornata salirà da quota 1500 a 3000 metri domani e venerdì avremo cielo da sereno a poco nuvoloso per il passaggio di velature ad alta quota sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata specie di notte e di mattina in pianura non si escludono locali gerate notturne ma anche temperature massime prossime ai 20 gradi ed è tutto per questa edizione del nostro TG grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su DNews TV grazie a tutti per la vostra attenzione la canzone a tutti grazie a tutti la corsa